Tolleranza zero è questa la decisione del sindaco di Catanzaro per evitare gli assembramenti. E' così che alcuni locali di Catanzaro ovviamente hanno deciso di cambiare le loro attività, i loro orari sulla base appunto di questa decisione del sindaco. Ne parliamo oggi con il titolare del fil di Catanzaro, Sandro Loggelli, che ha deciso di chiudere alle 18. Sì, premetto che comunque è un DPCM, va rispettato, quindi il sindaco non ha fatto altro che rafforzare queste misure del governo. E ci sta, ci sta, va benissimo. Noi comunque ubbidiamo, anche senza aver ricevuto un centesimo né di cassa integrazione né tantomeno di ristori come ne parlano da mesi, ubbidiamo e chiudiamo. Benissimo, però mi raccomando perché da questo momento facciamo in modo anche noi di difenderci con azioni legali per chi invece non rispetta le regole. E non vogliamo metterci contro ovviamente tra di noi, però se è veramente questo deve servire e ci deve essere una restrizione per poter ripartire a breve che venisse fatto un controllo a tappeto su tutto il territorio, su tutte le attività. Non solo il codice 56.3, perché se un ristorante, e io non ce l'ho con i ristoratori e con i miei colleghi assolutamente, ma noi siamo ristorazione senza cucina, ok. Ma se un ristorante somministra una bottiglia di vino e poi davanti al locale si crea l'assemblamento perché la bottiglia di vino se la stappano e se la bevono, mi spiegate allora questa cosa come la risolviamo? Perché ovviamente è una cosa ingiusta. Per non parlare dei distributori automatici, cioè che sono aperti 24 ore su 24, quindi per favore signor Sindaco, faccia in modo che la legge sia uguale per tutti. E allora avrà anche il mio appoggio e quello dei miei colleghi. Tu hai deciso di chiudere il tuo locale alle 18, quindi non fare totalmente l'asporto perché hai scritto su un posto su Facebook, noi non facciamo i controllori. Certo, ma come facciamo a controllare un ragazzo di 20 anni, di 22, 23 anni dopo che esce dal locale? A voglia che glielo dici, cioè si assembleranno sempre. La soluzione era, come diciamo da tempo, fare un tavolo anche con i ristoratori, ma qua il Sindaco può fare poco, cioè dovrebbe essere il Governo nazionale a prendere questa decisione. Servizio solo ai tavoli fino alle 21 e dare la possibilità a tutti i ristoratori barra di lavorare nella sicurezza col distanziamento solo col servizio ai tavoli. E poi io ci sto, se sbaglio sono disposto anche a rimetterci la licenza per due anni, però in quel caso posso controllare i miei clienti e sono responsabile di quello. Ma se non li posso controllare i miei clienti, come posso essere responsabile e rischiare di prendere una multa o comunque chiudere il locale per una cosa che non riesco a gestire? Semplicemente quello. Cosa accadrà questo weekend, secondo te, nella città di Catanzaro? I ragazzi giovanissimi, perché ricordiamo che si tratta di ragazzi anche sotto i 18 anni spesso, che magari non hanno la piena consapevolezza. Cosa accadrà? Continueranno gli assembramenti? Oppure questa azione del Sindaco avrà l'effetto di svuotare una città che finalmente, dobbiamo dire, si è riempita? Guarda, io ci credo poco che si svuoterà, perché i ragazzi se li fai uscire, se li fai stare a casa perché c'è un lockdown totale, allora non escono, non possono uscire e non si crea assembramento. Ma se possono uscire fino alle 10, andranno all'alimentari dietro l'angolo e compreranno le birre fredde, perché ci sono dentro gli alimentari le birre fredde, le apriranno e se le bevono e fanno assembramento. Oppure compreranno la bottiglia di vino al supermercato, che è aperto fino alle 8 e mezza. Si vedono nella piazza, che non è stata messa nelle restrizioni e nelle chiusure del Sindaco, una piazza diversa di quella dei Giardini di San Leonardo, anziché via Piazza Pola, Piazza Dogana, eccetera, e faranno assembramento. Quindi le repressioni o vanno fatte in modo totale, fino a quando si risolve il problema, oppure vanno gestite con intelligenza. E mi dispiace, ma in questo caso di intelligenza qua ce n'è veramente stata poca, 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 misera. Silvano Vignola, titolare del Mallard, tu sei un ristoratore, quindi fai anche un'attività che può continuare a fare asporto anche dopo le 18, oltre che il domicilio. Come vi organizzerete e qual è la tua opinione? Allora, noi proprio stamattina siamo usciti con un post sui social, dove sicuramente non ci troviamo d'accordo con quello che ha detto il Sindaco. La responsabilità non può cadere assolutamente sui gestori, titolari delle attività, per quanto riguarda gli assembramenti all'esterno. Il nostro lavoro è quello di fare dell'asporto, quello di cercare di continuare a lavorare in un certo modo dopo un anno che siamo in netta difficoltà. Ci sono delle autorità competenti per gestire comunque gli assembramenti all'esterno e reputiamo quindi in esatto quello che ha scritto il Sindaco. È vero, noi stiamo continuando a fare del servizio d'asporto, ma ci sono delle attività che sono più preposte per fare questa cosa, e attività come per esempio la mia che è preposta a fare dell'altro. I pub sono assembramento, ma questo non significa che se i ragazzi formano dei gruppetti all'esterno, il problema è del gestore dell'attività, anche se noi ci siamo messi anche in prima linea per poter evitare queste cose. Però ci sono delle autorità, penso, competenti che si debbano occupare di questo. A noi ci devono dare semplicemente la possibilità di lavorare, almeno in un certo modo. Dunque la vostra attività continuerà normalmente come ha fatto sino adesso, anche perché, ribadirsi, come hanno fatto anche gli altri titolari dell'attività di Catanzaro, noi non siamo dei controllori. Sì, noi non siamo assolutamente dei controllori. Io penso di parlare a nome di tutti i titolari dell'attività come la mia o similari. dove stiamo facendo un'enorme difficoltà ad arrivare a fine mese, a pagare le tasse, perché comunque sta arrivando tutto da pagare, i contributi non ne sono arrivati nuovamente, una promessa mai mantenuta. E soprattutto noi dobbiamo continuare a lavorare perché è quello per il quale viviamo. E noi non siamo dei controllori. Ristorica, sin integrazioni sono arrivate? Arrivano, arrivano tardi, arrivano male, delle proporzioni che ci permettono di comunque di tenere un'attività chiusa, perché alla fine l'attività dovrebbe rimanere chiusa per come dicono loro. Dunque, secondo te, una soluzione è possibile? Quale potrebbe essere? La soluzione di certo non la devo trovare io. La soluzione è che noi come attività, come Mallard, e penso anche tutti gli altri ragazzi che gestiscono le proprie attività, si sono messi in regola con quelle che dovevano essere le regole che ci sono state imposte, quindi mascherine, distanziamento, all'interno del locale non può sedersi nessuno fino alle 18. e quindi noi il nostro l'abbiamo fatto, però dopo un anno mi puoi capire che diventa molto difficile continuare a tenere questi rittimi. Insomma, i locali cosiddetti della Movida, ma anche semplici ristoranti, pub, quello che chiedono è sì di lavorare, ma soprattutto dicono all'esterno dei locali chi di competenza si occupi di evitare gli assembramenti, perché noi non siamo dei controllori.